Ciao a tutti ragazzi, credevate fossi morto, fossi sparito e invece no, sono ancora qua. Oggi parliamo di Shungite, abbiamo qua un bel dischetto di Shungite nuovo nuovo, come vedete a grande richiesta è arrivata anche la Shungite, un video molto veloce per verificare quale sia l'effetto di questo dischetto, almeno sulle misurazioni classiche, quelle che si fanno con uno strumento che misura i voltmetri e una connessione wifi o 4G, 3G a 2 GHz e 4 o 5 GHz. Adesso sta girando un video che chiaramente mi genera un campo, il campo lo vediamo qua, abbiamo intorno di picco intorno ai 4 voltmetri quando c'è il caricamento del buffer, ecco vedete che si va intorno ai 4 voltmetri, 3 e mezzo, 4 a questa distanza dal telefono e non c'è al momento nessuna Shungite nei pressi del qua, quindi questa è l'emissione. Adesso andremo a mettere la famosa o famigerata Shungite come da istruzioni attaccandola dietro al telefono, vediamo cosa succede, allora prendo il mio telefono, lo giro, ci attacco dietro la mia ottima e fantastica Shungite, come dicono le istruzioni, riposiziono il telefono e vediamo se con lo stesso video e con le stesse condizioni se abbiamo una diminuzione o meno dell'emissione, insomma. Lo vedete anche nel grafico qua dello strumento che si vede quale sia la quantità di emissione e vediamo se quei 3 e mezzo voltmetri di picco che misurava senza la Shungite sul retro vengono misurati anche con la Shungite. Vediamo, 3, 2, 8, dobbiamo aspettare che si carica 3 e mezzo, 3 e mezzo, quando si carica il buffer c'è la trasmissione 3 e 2, 2, 7, 3 e mezzo, ma a me sembra che i picchi siano assolutamente i medesimi, quindi 3 e mezzo erano prima e 3 e mezzo sono ancora. Ora vogliamo rifare di nuovo la prova per vedere se è sicuro, tolgo di nuovo il dischetto lo porto qua con me, adesso ce l'ho io, è qua, il nostro dischetto della grandissima Shungite posso anche, volete che la metto in mezzo, la mettiamo in mezzo così, fra i due, vediamo se cambia qualcosa, vediamo se i picchi sono diversi mettendola in mezzo, 2, 7, vediamo 2, 7, avevamo visto dei picchi di 3 e mezzo quando c'era il caricamento buffer, 3, 1, 3, 2, 3, 1, ma io non vedo 3, 3, quasi 3, 4, proviamo a toglierla, vediamo cosa succede, la togliamo, track, vediamo eh, 3, 1, 2, 7, 2, 8, adesso sta cambiando video, 3, 2, 9, sembra addirittura che quando l'abbiamo tolta sia diminuito, 3 di picco, adesso saltiamo l'annuncio, torniamo sul video, 3, 7, torniamo di nuovo a metterla dentro, in mezzo, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 3, 6, la tolgo, 3, 7, 2, 9, 3, 3, 2, 9, 3, 1, 3, 1, la rimetto, 2, 7, 3, 2, 7, 3, va, 2, 9, 3, insomma, io lo so se la cosa è ancora, insomma, questi sono i risultati, se voi avete notato un risultato, acquistate la Shungite, io non l'ho notato, oppure magari ci sono dei tipi di misurazione che io non conosco, nel senso che magari viene misurata in modi diversi, invece che metterla in mezzo e frapporla, la mettono in un altro modo, la incollano sullo schermo, non lo so, oppure invece che misurare con questi apparecchi che misurano i voltmetro, misurano con gli apparecchi che misurano, non so, l'esoterismo cellulare, non so, il campo di chissà quale entità, va bene, allora aspetto che qualcuno mi suggerisca un altro metodo per misurare la diminuzione che crea del campo elettromagnetico la Shungite, perché io con i classici strumenti di misura non rilevo alcun effetto sul campo elettrico. Questi sono i risultati, non sono morto, sono ancora qua, ogni tanto qualcosa salta fuori, ma come sapete viviamo in una situazione dove è quasi impossibile anche lavorare per certe persone, io sono una di quelle, quindi al momento c'è una battaglia da portare avanti molto importante, non solo per me o per noi, ma anche per tutti, perché è anche per chi non ha ancora capito in che situazione ci troviamo e quindi sono un po' più assente dalle questioni dell'Eterosmog, ma sempre sul pezzo per quanto riguarda gli aggiornamenti e le informazioni che cerco di reperire in continuazione. Quando avrò cose interessanti da riportarvi, lo farò sicuramente. Intanto vi saluto a tutti, vi auguro il meglio e speriamo che le cose migliorino in tutti i sensi perché al momento c'è una deriva un po' preoccupante. Ciao a tutti e alla prossima. Da Valerio.